Finalmente arriva quindi l'ok di Santa Margherita Ligure a quest'opera, alla realizzazione di quest'opera. Sì, siamo contenti di aver condiviso questo obiettivo che adesso ha il consenso unanime di tutti i territori circostanti. Credo che sia un passaggio importante, anche Santa Margherita è lieta di esprimere il consenso a questo intervento di grandi proporzioni che ha dietro una grande attesa per creare questo collegamento diretto tra l'area costiera e l'entroterra, anche di grande impegno economico, che ha alle spalle una lunga storia e che speriamo possa prossimamente vedere la sua realizzazione. Perché quest'opera comunque può avere un riflesso importante anche per un comune come il vostro? Anzitutto credo che alla base ci sia una dovuta solidarietà nei confronti dei comuni d'entroterra per i quali avere questa agevolazione all'accesso vorrebbe dire sicuramente superare una interclusione, ad un edificio di raggiungibilità che forse neanche è limitato nel tempo le possibilità espansive di sviluppo. Al di là di questo principio di solidarietà ci sta anche il fatto che se si crea, e qui poi dipenderà dalle modalità realizzative, effettive, esecutive, ma se si crea un filo diretto di congiunzione tra la costa e l'entroterra, credo che sia un vantaggio bidirezionale, cioè per l'entroterra ma anche per la costa, perché questo potrà agevolare la costruzione per il futuro di sinergie importanti da tanti punti di vista anche da quello turistico e benitoriale.